WS-5080BT di Trevi è un sistema Viva Voce portatile ideale per telefonare in tutta sicurezza, che permette comunicazioni chiare e limpide anche durante gli spostamenti e nel rispetto del codice della strada. Il dispositivo ha una facile installazione ad aletta prendisole tramite la sua clip metallica. Grazie alla connessione Bluetooth di cui è dotato, è possibile connettere simultaneamente a Viva Voce due telefoni. Per effettuare e rispondere alle chiamate, per riprodurre musica e per trasmettere indicazioni GPS. È munito di una batteria a litio, ricaricabile sia attraverso presa micro USB che presa accendisigari. Si accende automaticamente al rilevamento dell'apertura e chiusura della portiera e in assenza di connessione Bluetooth si spegne da solo, garantendo così una lunga durata della batteria. Grazie a tutti!